Buongiorno a tutti amici del Selletta, a reggine Depeforte che vi sto ordinando a Barzelletta Allora due capi uffici si incontrano, cominciano a discutere come si assume una segretaria Allora uno gli dice, oh io c'ho un metodo tutto mio, infallibile, ma davvero, e come fai? Cioè vedi, quando do l'appuntamento alle segretarie, gli faccio trovare dentro all'ufficio una banconota di 100 euro Io me nascondo e vedo come reagiscono Ah, ah, ora ci provo pure io, grazie, grazie, vedo se perdono di vista per un paio di mesi Dopo due mesi se li incontrano Oh amico mio, allora, l'hai assunta te segretaria, com'è andata, com'è andata? Cioè com'è andata, ho fatto come mi ha detto te Ah, mi sono lasciato una banconota di 100 euro, come mi ha detto te, poi me la sono nascosto Oh, ah prima appena è entrata, si è presa i 100 euro, si è messa dentro la borsetta Ciao, vedi? Cioè, la seconda invece me l'ha presa e me l'ha portata a me Ciao, vedi? Eh, invece la terza ha fatto proprio finta da non vederle Ah, e allora chi hai scelto te? E che ho scelto? Ho scelto quella che è le zinne più grosse Ah, ah, ah